Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Avete mai sentito il modo di dire il capitano affonda con la sua nave? O magari lo avete utilizzato? È un modo di dire che è nato in termini marinaresco, riferendosi fisicamente ad un capitano che affonda insieme al suo natante, che sia una nave, un sottomarino, quel che volete, ma che poi col tempo ha iniziato ad essere utilizzato anche in mille altri ambiti. Tanto che io francamente lo sento ormai utilizzare solo in ambiti che con la marina, con il mare e con i fiumi non hanno assolutamente nulla, nulla, nulla a che fare. Bene, la domanda che ci siamo posti, o meglio, che si è posto Giulio, che ringrazio per aver creato questa Aperistoria, andando poi a cercare le varie fonti, è questa. Ma è semplicemente un modo di dire? Oppure si basa su qualcosa di reale? Cioè veramente c'è stato un periodo, o è ancora così, in cui era previsto che il capitano di una nave, quando questa veniva danneggiata in maniera irreparabile e non poteva più rimanere a galla, ma andava a fondo, il capitano rimanesse sulla nave e affondasse con lei? Beh, è una domanda curiosa, è una domanda che in effetti è un po' difficile trovare, a cui è più difficile trovare una risposta. Partiamo dall'inizio. Probabilmente l'origine di questa tradizione risale intorno al diciottesimo, diciannovesimo secolo, quando prima nella marina inglese, e poi anche in altre marine del resto del mondo, iniziò a svilupparsi un modo di dire, che anche quello è arrivato fino ad oggi, cioè prima le donne e i bambini. Iniziò a svilupparsi l'idea che i primi a dover lasciare una nave dovessero essere quelli più deboli, cioè appunto le donne e i bambini, e che gli uomini, e poi ovviamente anche i marinai, che erano tutti uomini, compreso il capitano, dovessero essere appunto gli ultimi a lasciare la nave. Questo rispondeva a degli ideali ovviamente di cavalleria, in cui chi era visto come più debole, immaginate come poteva essere la società più di due secoli fa, tra cui appunto le donne, doveva essere il primo a poter salvarsi. E questo avveniva in un contesto in cui le navi, molto, molto, molto raramente, quando affondavano, erano in grado di salvare tutti coloro che erano a bordo, perché non vi erano abbastanza scialuppe, non c'erano mezzi di salvataggio moderni, insomma la situazione era abbastanza complessa. Questo modo di dire nasce in quel periodo, è possibile, ed è la cosa molto probabile, che in realtà questa fosse una frassi già in uso da moltissimo tempo, di cui non si può andare ad identificare una vera origine. Perché però si passa al capitano? Beh, perché man mano che le cose migliorano, iniziano ad essere introdotti nuovi meccanismi per poter in qualche modo salvare chi si trovava su un naufragio, man mano che vengono anche introdotte delle nuove regole per poter agevolare il salvataggio dei passeggeri al momento di un naufragio, ecco che ci si rese conto che, come in tutte le situazioni, era necessario che qualcuno potesse gestire questo salvataggio. Insomma, che uomini lasciati, uomini e donne lasciati nel panico più totale di un naufragio ad autogestirsi, avrebbero probabilmente portato a molte più perite, molte più morti, se invece fossero stati lasciati da soli, piuttosto che se invece fossero diretti da qualcuno. E chi avrebbe potuto dirigere meglio le operazioni di salvataggio del capitano? Nessuno, anche perché ovviamente il capitano su una nave era la persona più alto in grado, quello che aveva un maggior potere. Ecco che allora, da questo, prima le donne e poi i bambini, si inizia a passare ad un livello successivo e si inizia a dire che tra tutte le persone a bordo, l'ultimo a dover lasciare la nave deve essere il capitano, in questo caso non più per motivazioni di cavalleria, ma per motivazioni squisitamente pratiche, cioè che il capitano deve rimanere fino all'ultimo a dirigere i soccorsi per poi, una volta assicuratosi che tutti quelli ancora vivi sono in salvo, poter a sua volta lasciare la nave. Da una tradizione, tutto questo ad un certo punto divende una vera e propria legge, presente peraltro anche nel nostro ordinamento, che prevede proprio che il capitano debba rimanere sulla nave fino alla fine dei soccorsi in caso di naufragio. E addirittura, non solo lo prevede, ma prevede anche delle pene per quei capitani che invece decidono di lasciare la nave prima di coloro che vi si trovano sopra, prima dei passeggeri, prima dell'equipaggio, delle pene che sono addirittura aumentate ulteriormente qualora si tratti proprio di una nave con passeggeri. Come a dire che un capitano deve essere ancora più coscienzioso nel momento in cui non è solo un equipaggio, che essendo fatto di marinai magari in qualche modo sa cavarsela, ma sono soprattutto dei passeggeri che invece magari non sanno neanche nuotare ad essere sulla nave. Se ci pensate, quando ci fu il naufragio della Costa Concordia, una delle cose che vennero imputate a Schettino, al capitano Schettino, fu proprio quella di aver lasciato la nave prima che venissero organizzati i soccorsi. Non so se vi ricordate il comandante De Falco che lo invita in maniera molto calorosa a tornare sulla nave. Ad ogni modo, questa parte, cioè che il capitano sia l'ultimo a lasciare la nave, invece in qualche modo esiste veramente anche nell'ordinamento. Come si arriva però al passaggio successivo? Come si arriva a dire che invece il capitano in qualche modo ha l'obbligo morale di affondare insieme alla nave? Come dire, a lui era stato affidato non solo la vita dei passeggeri, non solo la vita dell'equipaggio, quello magari ormai si è occupato di salvarla, ma anche la nave, e quindi se la nave affonda, lui deve affondare con essa? Beh, in realtà ha un'origine che non è, per così dire, reale, cioè non origina da degli episodi o da delle leggi specifiche, ma origina semplicemente dall'unione di vari episodi in cui il capitano era affondato, di cui probabilmente il primo ad essere largamente conosciuto e a diventare quindi un po' fonte di discussione, fu il caso del Titanic. Come io ho raccontato qualche puntata fa, ma come molti di voi sappiano, il capitano del Titanic affondò insieme alla sua nave, rimase fino all'ultimo a gestire i soccorsi, cercò di salvare più persone possibili, erano ancora i casi in cui non vi erano abbastanza scialuppe, anzi, poi le leggi saranno cambiate proprio dopo questo affondamento, e alla fine, o almeno così raccontò qualcuno dei sopravvissuti, anche se era stato invitato anche lui a cercare di salvarsi in qualche modo, aveva invece deciso di tornare nel centro di comando e in questo luogo affondare, una cosa che era presentata poi bene anche nel film Titanic, quello con DiCaprio, che credo molti di voi abbiano visto. Uno dei primi esempi, il 30 maggio 1918, fu il contrammiraglio Giovanni Biglione, il quale si trovava a bordo del piroscafo Pietro Maroncelli, quando questo venne raggiunto da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco, e iniziò ad affondare. Secondo quanto viene raccontato, dopo essersi assicurato che l'equipaggio, tutti i passeggeri fossero saliti sulle scialuppe, decise, nonostante vi fosse ancora posto, di rimanere sulla nave e di affondare insieme ad essa, quasi a rappresentare il suo fallimento nel difendere il convoglio. Il 27 giugno 1940, invece, nella seconda guerra mondiale, ovviamente, un sottomarino italiano, il console generale Liuzzi, fu costretto ad emergere, un sottomarino fu costretto ad emergere sotto la minaccia delle armi, da parte dei cacciatorpedinieri inglesi. Il suo comandante, dopo essersi assicurato che tutti gli uomini fossero riusciti a lasciare il sottomarino, decise di affondare insieme ad esso. Non perché il sottomarino fosse stato colpito, ma perché lui stesso decise di farlo affondare per non farlo cadere in mani inglesi. Pochi mesi più tardi, nell'ottobre del 1940, fu invece il capitano del cacciatorpediniere Francesco Nullo, che era stato colpito da dei bombardieri in azione, che insieme al suo attendente, in questo caso non più solo uno, ma addirittura due uomini, decise di rimanere sulla nave che affondava dopo che tutti gli altri invece l'avevano lasciata. Insomma, in questi casi vediamo come lo scopo di in qualche modo agevolare il salvataggio e non ci sia più e il capitano decida semplicemente di sacrificarsi diventando un simbolo. Molto spesso è ripreso dalla propaganda, per dimostrare ovviamente la durezza degli uomini di guerra, appunto un simbolo per tutta la guerra. Abbiamo parlato di episodi italiani, ma ci furono episodi anche presso altre nazioni, ad esempio in Giappone, dove a volte non era semplicemente il capitano o il suo stato maggiore, i suoi ufficiali a decidere di rimanere sulle navi che affondavano, anche navi molto grandi, i portaeri, ma erano anche molti marinai che si sacrificavano in questo modo, quasi rinunciando alla propria vita, per punire la propria sconfitta. E così, da questi episodi, che ripeto, ovviamente in tempo di guerra vennero ripresi più volte dalla propaganda, il modo di dire divenne in qualche modo colloquiale e iniziò ad essere utilizzato anche per tanti altri motivi. Un'origine storica c'è e devo essere sincero, non siamo però riusciti a capire se questo passaggio da un vero e proprio regolamento a queste forme di sacrificio sia originato da qualche scritto particolare o sia stata semplicemente la volontà di qualche capitano che poi ha iniziato a circolare tra i circoli ufficiali portando altri a emularlo. Ripeto, se qualcuno dovesse avere delle informazioni in tal senso saremmo ben contenti di poterle aggiungere e poter integrare. Io mi fermo qua, spero di aver sopito un po' anche la vostra curiosità, ringrazio tantissimo Giulio per aver trovato il materiale e anche aver consigliato un argomento così particolare. Con cosa possiamo brindare? Beh, se tutto è veramente partito dalla marina inglese credo che la bevanda migliore per brindare sia del rum che mi sembra il classico liquore da associare ad un marinaio. Quindi, con un bicchierino di rum e un pezzettino di cioccolato che va sempre bene insieme brindo a voi, brindo a tutti coloro che purtroppo per motivazioni di guerra o per motivazioni di sfortuna sono affondati insieme a tante tante navi. A presto, ciao ciao!